Ciao amici del CPM, ciao compagni del CPM, io sono Angelica in Arte Chiamami Faro e sono appena stata all'Open Week a parlare un po' del mio progetto di music management ed è stato bello vedere tutti i miei compagni lì sotto che mi supportavano, è stato un bellissimo incontro e speriamo di rifarlo presto, un bacione e grazie a tutti!